Hola a tutti ragazzi, è il vostro Luke E oggi mi vedete qui in questo video Molto diverso dal solito Perché non siamo su Minecraft Ebbene si ragazzi, siamo su Zula Per chi non lo conosce, diciamo è CSGO De povere, tra virgolette Ma lo stesso è fatto molto bene Vi dico subito la cosa ragazzi, subito le mani Molti mi accuseranno Luke Ma tu copi l'altro Luke Ragazzi, non è per niente così Io questo gioco l'ho recato adesso Però è da un bel po' che ci gioco, bensì da quando Luke fece il primo video Di questo gioco Infatti penso di mettervi anche uno screen Per evitare ulteriori polemiche O avrò più o meno una cinquantina di ore di gioco Se non sbaglio Quindi abbiamo fatto un contorneo E ci ho giocato tanto Perché vi porto questo video? Perché ragazzi, ultimamente vedete Non faccio più The Legend Perché voglio prendermi un po' di pausa Perché voglio fare le cose che mi divertono di più E di conseguenza sto portando Zula Gioco su quale sto giocando abbastanza con gli altri Ai gioco e botta E vedete che bell'headshot è partito subito Attenzione Eh ragazzi, quali sono forti contro Poi un altro ragazzo che c'è ragazzi È Reda Che appunto è un mio iscritto Me l'ha detto prima in stanza E non lo sapevo Proprio adesso mi ha scoperto Diciamo che stavo per arreccare Allora, io ho visto Voleva prendermi Andro DJ Vi dispiace Ragazzi, non so come si sentirà l'audio del gioco Perché è la prima volta che Diciamo Recco in FPS Sendo spari Recco in FPS Quindi non so come si possa sentire E vi ripeto ragazzi Non mi accusate di aver copiato qualcuno Perché Io lo faccio semplicemente Perché mi diverto Intanto ragazzi Come prima cosa 3 kill facili facili Perché ho iniziato a metà gara ragazzi Perché fidatevi Ho recato già una parte prima Però era troppo lunga Perché fare 20 round è davvero tosta Quindi Vi recco la parte finale Che può essere anche più emozionante Infatti c'era una scuola abbastanza brutta Però adesso ho fatto 3 kill tutti insieme Quindi va bene Oh No raga Ho sbagliatissimo Perché Lui ha buttato la granata E mi sono buttato sulla granata praticamente Però vediamo cosa fanno i nostri amici Niente Anche che Acted ha cacciato la scienza Da quando iniziato a arreccare Va bene Ovviamente scrivo GG Raga Perché se lo merita Ha fatto davvero un buon giocat E vediamo di fare qualcosa di buono Ragazzi Se volete video Ancora su Zula Magari senza che accusate Di aver copiato Grazie Perché la prima volta Porta un fps E quale poteva portare A parte questo Perché purtroppo CSQ il pc Non me lo regge Infatti mi serve Se volete anche dei video Con la webcam Ok Però ovviamente Credo ragazzi Che avranno poche views Perché Sul mio canale Piace solo minecraft Purtroppo A mio dispiacere Intanto quelli stanno cazzeggiando E non defusano Invece si Raga Come vedete La partita è abbastanza equilibrata Infatti è per questo pure Che stiamo avanti Andando avanti Per molto tempo Però non vi preoccupate Che si otterrà qualcosa My team Screeller È vero che fino adesso Non ho fatto niente Io però adesso Mi sono svegliato Signore Quindi non scherziamo Oh Porca trota Ragazzi C'era una vp a destra Ok Adesso sappiamo Che lì ci sarà Una vp Bella da aspettarci Raga Purtroppo questi errori Succedono Ho fatto una tripla E mod sono morti Tre volte di figlia Va bene Due volte Anzi Non portiamo male i conti Che già siamo messi male Cioè Diceva a noi nabbi Però lui non se ne accorge Che a sinistra C'è stato quello Che lo guardava Vabbè raga C'è posta C'è posta Comunque ragazzi Comunque questo gioco È davvero fatto Molto bene Diciamo sulla fisica È simile a CSQ Non totalmente Però diciamo di sì Infatti ha fatto anche un torneo Insieme appunto Adacted Dice Ninja Diciamo quelli del team speak Con cui parlo E vabbè raga Abbiamo fatto schifo Ma se sa Oh Oddio Cioè raga Ma mi dite Che culo che c'hanno questi Cioè Prima mi sparano Mi flashano Mi buttano una granata Tutti insieme Ragazzi Sono davvero organizzati Come team loro Dobbiamo dire Questo Che è assolutamente vero Ottimo Sunny Gamer Che se la sta comandando Da solo E poi muore come un imbecille Va bene raga Taglia Non ci sfiduciamo Se può vincere Se può vincere Allora Namos Namos Ok dobbiamo plantare Mi è proprio giusto Un dubbio Di mestiere Allora Eh Cioè raga Ci hanno asfaltato nuovamente Io non ho parole Allora Di là Lo giuro Non ci vado più Perché davvero Ci sta quel Paltz Snack Che temo Un shot In un modo incredibile E intanto Skrillers Nist Come si chiama lui 94 Davvero forte Allora io di qua Non andrò più E andrò dall'altra parte Perché lì ci sta il cecchino Che mi apre il sedere Ogni volta Please team Mesh Shut up Ok Anzi raga Non andiamo di qua A volte ci sta il cecchino Qualcuno Ma in ghezzo O se di un colpo Non credo che sia verso di me Però Chi spara Chi spara Chi ce sa C'era raga Io non capisco Olè Act De fatto Ho sparato Un po' male Perché i ragazzi Si erano buttati Da 10 metri Buono che sta plantando Skrillex Ci ha recuperato Tiriamo una granata Giusto per Nei corridoi Sendo un cecchino Qua vicino C'è un cecchino Qua Ma dove cacchio sta Signor cecchino Mi scusi Ma dov'è che sta facendo Le stragi lei Signor cecchino Maron mi che paura Reda Umaro Come sta prendendo Un infarto Grande Sunny Ragazzi Come detto prima Sta partita è equilibratissima E si va Verso il pareggio Secondo me Secondo me Va a finire a pareggio Sta partita Ragazzi Perché troppo equilibrata 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 Poi va a finire così Oh Minchia Reda Mi ha preso Una volta solo col cecchino Mi ha levato tutta la vita Sono rimasto con 90 di vita Porca trota Poi mi arriva Una cecchinata Dici Ma chi è stato Ho visto Non sperare prima Alla però Ma sei tipo La planto qua E' tipo tutti quelli Stanno nel parcheggio Però vi faccio Tre sgressive La planto qua Olè Bomba plantata E ce ne andiamo qui Forse posto Mi ha dato Ah Rimasto cecchina Ah Buona Grande sunny gamer Che sta ammazzando Tu sembri il cecchino E fa la cosa migliore Dai raga Andiamo a vincere Sto round So che ragazzi Sono stato poco participe In questa squadra Però Dovete capire un po' L'emozione Dai La prima volta Che porto FPS Sul mio canale Dopo tantissimo tempo Che non portavo C'è sicuro L'ultimo gioco C'è la VP Non ti conviene Peppe Ci ammazzano Voglio dire Una bella Tattica Di là Ok Tornate indietro Come l'ho detto Non voglio morire Li ho fatto apprendere Da dietro Magari non se ne accorge Oh marrone L'ho sentito Proprio qua Ciao cecchino Raga Ho ucciso In modo Bastardo Ma si doveva fare Perché quel cecchino Ci stava distruggendo Tutti Dukai che hanno plantato Sto giro Penso via Oh 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 E ancora un altro Da dietro Raga Ci manca l'ultima kill Ultima kill E abbiamo vinto Sto partita Molto sudata Fidatevi Raga Sono una buona Mezzoretta Che stiamo a giocare Oh Vedete quando uno spara male Raga Buona Grande Sklidrox Che morivo sicuro Ho sparato Non male Di più Ragazzi Abbiamo vinto Solo 13 kill Ma vi ripeto Raga Stata partita È andata malissimo Per me Un po' De concentrato Un po' Perché sto recando E non so Perché c'è pure De far figure De mierda Ne dubbio L'ho fatta Comunque ragazzi Sto gioco È una figata Ve lo assicuro Se volete Scaricatevelo Ovviamente io C'ho un clan Che si chiama Crazy player Che ci sono un bel po' Di gente dentro E appunto È il clan Del TS Diciamo così E abbiamo ben 705 punti Clan E qui ovviamente Penso di non potervi Farvi vedere Quanto C'ho Ah io siete Inviato un messaggio Dopo lo andremo A leggere Comunque ragazzi Spero che il video Di oggi vi sia piaciuto Se ne volete ancora Lasciate like Mi raccomando ragazzi Se lasciate dislike Motivatelo Anche se siete Luke Hai copiato Peppa Pig Dimostrate l'ignoranza Perché ragazzi Io vi ho spiegato Il motivo Per il quale Ho portato sto gioco Detto questo Lasciate like Commentate Condividete Ci becchiamo Alla prossima partita Magari ancora su Zula E ciao a tutti ragazzi